Nel fotogramma riportato nella relazione tecnica la tendina a destra sia stata fatta scorrere fermando l'immagine alla notazione di eventuali appelli, risulta chiaramente dalla relazione tecnica che non è affatto certo che quell'immagine sia stata comunque raggiunta da Russo in quei nove secondi nei quali egli ha effettuato questo accesso. E comunque in questi pochissimi secondi non avrebbe potuto mai vedere se c'era appello del PM o appello dell'imputato. Allora se il dottor Fava avesse chiesto a Russo per assurdo di verificare se il dottor Ielo quindi senza nemmeno sapere il dottor Fava se la Bruno era stata assolta o condannata se in questa follia il dottor Fava senza nemmeno sapere se la Bruno era stata assolta o condannata avesse chiesto a Russo di verificare se il dottor Ielo aveva proposto appello Russo che è un cancelliere con anni e anni di esperienza abbiamo visto una persona anziana non avrebbe mai aperto il CCP perché sapeva benissimo che quell'informazione non stava al CCP perché come sappiamo i cancellieri o meno i segretari come ha detto il test Giannino ancora pagina 9 deposizione Giannino 21 marzo 2022 le segreterie della procura conservavano la copia o il riferimento numerico degli appelli proposti anche a fini statistici cioè c'era un registro che aveva Russo dove c'era scritto quali appelli aveva presentato il dottor Ielo quello sarebbe stato il documento che un cancelliere esperto come Russo avrebbe consultato non sarebbe mai andato ad aprire il CCP dove non c'era l'informazione che in questa follia il dottor Fava gli avrebbe ipoteticamente richiesto e questo lo sapevano Fava che faceva il PM da vent'anni e Russo è strano che il pubblico ministero di Perugia che pure ha una notevole esperienza non lo sappia oltre a ciò deve essere considerato un altro dato il signor Russo che è stato sentito nell'udienza del 16 febbraio 2022 ha chiarito di avere certamente interrogato più volte proprio quel procedimento il 62278 barra 2012 modello 22 per far fronte a richieste di informazioni a detto Russo provenienti dalla polizia giudiziaria e anche per riepilogare le spese di giustizia e completare il foglio notizie a quel proposito ha detto che proprio la maschera contenente l'elenco delle richieste visualizzata il 15 maggio del 2019 la seconda maschera aperta per intenderci veniva da lui aperta per compilare e trasmettere il foglio delle notizie cioè gli chiedevano il foglio delle notizie e lui apriva quella schermata e poi ha aggiunto un'informazione secondo noi fondamentale un'informazione fondamentale che era nota al pubblico ministero ma che noi non siamo riusciti a trovare negli atti infatti invitiamo il tribunale a fare a sua volta una verifica perché che cosa ha detto? ha detto che il giorno 14 maggio 2019 cioè il giorno prima di questi accessi era arrivata una richiesta di informazioni dalla polizia giudiziaria guardia di finanza per avere notizie in merito a un soggetto originariamente coindagato della Bruno nel procedimento 62278-2012 cioè proprio in questo procedimento il 14 maggio era arrivata una richiesta di informazioni della guardia di finanza alla segreteria del dottor Ielo trascrizione udienza 16 febbraio 2022 pagina 15 testimone russo Antonio il 14 c'era stata una richiesta di accertamento di una notizia sullo stato del procedimento di un coindagato di quel procedimento posizione stralciata che era in attesa di definizione al giudice monocratico pubblico ministero dottor Formisano per false informazioni al pubblico ministero perché era un reato di false informazioni al pubblico ministero testimone russo Antonio esattamente e che era in attesa della fissazione udienza e periodicamente la guardia di finanza comunicava allora come faceva il pubblico ministero dottor Formisano a sapere che era un false informazioni al pubblico ministero quindi lo sapeva già il PM poteva indicare al teste quale fosse il titolo di reato al quale si riferiva questa richiesta di informazioni del 14 maggio noi questa richiesta di informazioni del 14 maggio non l'abbiamo trovata sarà nostra colpa non l'abbiamo cercata bene però anche il dottor Fava che è uno attentissimo come il tribunale avrà capito l'ha cercata e non l'ha trovata neanche lui passi che non l'abbia trovato Luigi Panella che non l'abbia trovato Luigi Castaldi ma è difficile che non la trovasse il dottor Fava noi non l'abbiamo trovata codesto illustrissimo tribunale potrà verificare ma per noi è importantissima questa richiesta del 14 maggio della guardia di finanza relativa proprio a quel fascicolo alla segreteria del dottor Ielo perché diventa estremamente probabile che la mattina dopo il 15 maggio la guardia di finanza che frequentava gli uffici del dottor Ielo e come vedremo anche del dottor Fava si sia recata a chiedere quella notizia perché quella notizia riguardava un militare della guardia di finanza e quindi loro erano particolarmente attenti agli sviluppi del procedimento nei confronti di questo militare della guardia di finanza e questo potrebbe spiegare quella consultazione di nove secondi fatta da Russo proprio la mattina alle 10.52 ma spiega anche un'altra cosa perché spiega un'altra cosa? perché la richiesta riguardava l'imputato Serrao l'imputato Serrao era coindagato della Bruno ma era anche il figlio di Antonio Serrao indagato dalla stessa guardia di finanza in altri due procedimenti o meglio indagato dalla procura di Roma che aveva delegato la guardia di finanza in altri due procedimenti del dottor Fava il 44.630.16 e il 10.841.18 quindi non può assolutamente escludersi che la mattina del giorno dopo questa richiesta la guardia di finanza prima di andare avendo visto Serrao e pensando che l'informazione potesse averla anche la milanese sia andata alle 10.28 a chiedere nell'ufficio di Fava scusate ma in relazione a questo procedimento e loro avevano il numero 62278 che cosa ne è stato di Serrao? pensando che potesse dare la risposta alla milanese ma la milanese fa l'accesso al TIAP vede che il fascicolo non era stato assegnato ormai definito con sentenza eccetera ma comunque non era un fascicolo del dottor Fava e dice no dovete andare nella segreteria del dottor Ielo e questi vanno fisicamente dopo essere stati nella segreteria del dottor Fava la guardia di finanza va nella segreteria del dottor Ielo e chiede al dottor Russo al signor Russo e quello fa l'accesso alle 10.52 i 20 minuti sono proprio il tempo che ci vuole dopo essere andati con molta calma devo dire dopo essere andati nella segreteria del dottor Fava e aver parlato con la milanese nella segreteria di Ielo e a parlare con Russo di Serrao cioè di un soggetto che comunque era in qualche modo collegato ai procedimenti trattati anche dal dottor Fava e quindi può esserci stato un equivoco della guardia di finanza che pensava andando da Fava di trovare le informazioni richieste si tratta di un'ipotesi assolutamente ragionevole e che non può affatto essere escluso il fatto che il giorno prima degli accessi ritenuti inspiegabili di Russo e della milanese la guardia di finanza chiedesse di accedere alle banche dati non essendo stata prodotta la difesa o comunque non avendola noi trovata questa richiesta e noi quindi non sappiamo neanche che tipo di informazione fosse stata richiesta se era un'informazione che si poteva avere al TIAP o era un'informazione che richiedeva l'accesso al CCP dimostra come non sia possibile attribuire al dottor Fava la responsabilità di quelle consultazioni solo perché intervenute qualche ora prima che egli con le sue credenziali in modo del tutto trasparente e limpido accedesse al TIAP del resto è indubbio che il Russo si sarebbe ricordato cioè se Fava avesse chiesto qualcosa al Russo il 15 maggio del 2019 alla fine del mese quando c'è stata la perquisizione negli uffici del dottor Fava quando è esplosa diciamo così questa vicenda Russo se ne sarebbe ricordato avrebbe detto al dottor Gielo è venuto Fava a chiedermi questa cosa e non l'ha fatto eppure Russo ha riferito di aver coadiuvato il dottor Gielo all'inizio di giugno a redigere una relazione anche visionando gli atti di quel procedimento eppure sentito come testimone in questo processo Russo ha confermato quanto già dichiarato nel corso delle indagini preliminari e ha dichiarato che ciò non è accaduto cioè che Fava non è andato a chiedergli un bel nulla poi uno degli argomenti che è stato utilizzato dalle accuse pubbliche e private è che è stata chiesta al dottor Fava una spiegazione dell'accesso effettuato dalla milanese è fragilissimo come argomento perché non è una cosa che va chiesta al dottor Fava che ha fatto l'accesso alle 13.09 con le sue credenziali va chiesta alla milanese e la milanese ha detto che non se lo ricordava assolutamente e questo è compatibile anche con l'accesso degli ufficiali o dei sotto ufficiali probabilmente della guardia di finanza nella segreteria di Fava e poi in quella di Ielo alla ricerca di informazioni su Serrao la mattina del 15 maggio del 2019 dopo la richiesta formale inviata il giorno prima ancora una volta la pubblica accusa anziché prendere atto della infondatezza di questa ipotesi di cui è l'articolo 48 e del fatto che non è stato o comunque non c'è alcuna prova che sia stato il dottor Fava a chiedere accessi al russo o alla milanese invece di chiedere la soluzione ha in qualche modo cercato di ricondurre al dottor Fava tutti e tre questi accessi e quindi anche da questo punto di vista noi non possiamo che segnalare come il fatto ipotizzato nell'imputazione rispetto al quale ci stiamo difendendo sia del tutto privo di fondamento inoltre altra considerazione sempre sul tema la signora milanese quando ha fatto il suo accesso ha anche stampato un documento e questo risulta contrariamente a quanto affermato dalla pubblica accusa pagina 9 della sua requisitoria scritta non è dato sapere perché non è stato accertato quale documento abbia stampato la milanese ma una cosa è certa non lo ha dato al dottor Fava perché il dottor Fava quando poi ha fatto il suo accesso alle 13.09 ha consultato quello stesso documento cosa che egli non avrebbe fatto dove disponesse già di una copia dell'atto forse lo ha dato alla guardia di finanza per dire guarda dovete andare da Ielo non lo sappiamo perché quest'atto noi non lo abbiamo trovato possiamo fare delle ipotesi ove tra i documenti visualizzati dalla signora milanese vi fosse stata la sentenza pronunciata dal tribunale ma così non dovrebbe essere stante la denominazione data dal documento dal TIAP al documento questa recava oltre al numero del procedimento anche il passaggio ingiudicato cioè l'attestazione della mancata impugnazione se l'avesse data al dottor Fava il dottor Fava non avrebbe avuto nessuna necessità di chiedere alcunché a Russo se invece come sembra questi documenti il documento stampato dalla milanese riguardava altro il dottor Fava non avrebbe potuto sapere alle 10.52 del 15 maggio quando veniva effettuato l'accesso dal Russo quale fosse stata come dicevo la sorte del procedimento nei confronti di Brunella Bruno cioè se non era la sentenza lui non sapeva nemmeno se era stata condannata o assolta Brunella Bruno e quindi non avrebbe comunque potuto chiedere nulla in ordine eventuali appelli del PM al cancelliere Russo allora resta da spiegare e il pubblico ministero non lo spiega in alcun modo per quale ragione il dottor Fava avrebbe dovuto chiedere al Russo di accedere al CCP non certamente come dice l'imputazione per individuare il procedimento perché il numero ce lo aveva già Fava e non certamente per chiedergli se il dottor Ielo aveva o meno presentato l'appello quindi questa ipotesi ricostruttiva dell'accusa è rimasta un gigantesco punto interrogativo al quale l'accusa non è riuscita in alcun modo a dare una risposta in realtà come affermato dal dottor Fava fin dal suo primo interrogatorio egli non ha richiesto alla signora milanese a Russo di accedere a questo procedimento perché vado per sintesi veramente per sintesi conosceva il numero del procedimento a carico di Brunella Bruno e lo abbiamo visto non aveva ragione di chiedere a Russo di verificare al CCP se il dottor Ielo aveva impugnato la sentenza perché sapeva che questo dato lo sapeva il dottor Fava non è registrato al CCP non poteva aver chiesto alla signora milanese di accedere al TIA al suo posto perché il suo intento era quello di fare una cosa che la milanese non poteva fare non aveva le capacità professionali di fare cioè di verificare se di verificare innanzitutto quanto gli aveva rappresentato il dottor Ielo e quindi anche quanto richiestogli dal dottor Ielo cioè se quest'ultimo avesse fatto il suo dovere nel procedimento a carico di Brunella Bruno era una cosa che richiedeva che egli esaminasse personalmente gli altri ma per una finalità istituzionale cioè come dice anche il pubblico ministero nella prospettiva di valutare se inserire anche quella vicenda nella denuncia che si accingeva a fare alle autorità competenti e che ha fatto il 4 giugno del 2019 disponeva egli stesso delle credenziali per accedere al TIA infatti lo ha fatto in modo assolutamente trasparente e limpido alle 13.09 ove non avesse voluto lasciare traccia dell'accesso non si sarebbe comunque cioè una cosa possiamo dire ma non che il dottor Fava sia uno sciocco assolutamente non si sarebbe rivolto al segretario del dottor Ielo il quale avrebbe potuto dire al dottor Ielo guarda che è venuto Fava e mi ha chiesto questa cosa cioè qui si ipotizza addirittura la stupidità se volete del dottor Fava se fosse stato consapevole in ogni caso dell'illiceità del suo accesso da pubblico ministero che faceva questo mestiere da vent'anni non avrebbe fatto l'accesso alle 13.09 in modo del tutto trasparente restando per ore oltretutto al TIA perché l'accesso è dalle 13.09 alle 14.48 allora poi c'è una considerazione che dobbiamo fare e questa è conclusiva su questo punto sul modo di procedere dell'accusa perché sempre solo nella discussione finale il PM ha ritenuto incredibilmente di richiamare in modo erroneo il contenuto di intercettazioni non utilizzabili cioè quelle del 15 maggio conversazione intercettata dal Troia nel 15 maggio Fava Palamara non utilizzabile che non è stata acquisita e comunque il pubblico ministero l'ha citata per far credere erroneamente che la scelta del dottor Fava di accedere personalmente al TIA alle 13.09 del giorno 15 sarebbe derivata da quella conversazione intercettata cioè ci ha detto in altri termini io non la posso utilizzare non ve la posso leggere però sappiate che c'è qualcosa in atti che ci fa ritenere che il giorno 15 il dottor Fava abbia deciso personalmente quindi superando tutte queste cautele di accedere al TIA perché aveva parlato con Palamara questo è il messaggio che vi è stato trasferito ed è un messaggio completamente fuorviante ed erroneo per un dato molto semplice io a mia volta non ne posso parlare però il dato fondamentale è che il dottor Fava si è incontrato con il dottor Palamara dopo aver fatto l'accesso al TIA alle 13.09 dopo aver scaricato la sentenza quindi il suo accesso al TIA non può essere stato in alcun modo determinato dalla sua conversazione inutilizzabile con Palamara del 15 maggio si tratta dell'ulteriore conferma delle gravissime carenze probatorie che caratterizzano la ricostruzione accusatoria in modo più semplice mi verrebbe da dire si tratta della dimostrazione di come il pubblico ministero abbia cercato in tutti i modi di arrampicarsi sugli specchi perché anche questo è un argomento del tutto fallace concludendo sul punto degli accessi effettuati dal signor Russo e dalla signora milanese l'attribuzione di essi al dottor Fava ai sensi dell'articolo 48 è del tutto priva di logica ed è smentita dalle risultanze dibattimentali tra le quali spicca proprio questa richiesta misteriosa della guardia di finanza alla segreteria del dottor Ielo del 14 maggio del 2019 che noi non siamo riusciti a trovare l'unico accesso operato dal dottor Fava è quello che ha direttamente effettuato utilizzando le proprie credenziali nel pieno convincimento della doverosità di quell'accesso e poi last but not least i due testimoni che noi ci siamo presi la briga di sentire russo e milanese tutti e due hanno detto che Fava non gli ha chiesto niente e il pubblico ministero non è che ha detto che i testimoni hanno dichiarato il falso e noi abbiamo due testimonianze che lo escludono l'ho lasciato per ultimo questo argomento ma non è ovviamente l'ultimo argomento dovrebbe essere il primo argomento il dottor Fava ha effettuato l'accesso con la propria password in modo del tutto trasparente e questo è un comportamento del tutto in contrasto con l'assunto del PM per il quale egli non avrebbe voluto lasciare tracce di questo accesso il terzo argomento che sottoporò all'attenzione del tribunale è proprio questo l'accesso al TIA operato dal dottor Fava con le proprie credenziali allora a questo proposito dobbiamo porci una domanda perché il pubblico ministero ha cercato con tanta ostinazione di attribuire al dottor Fava anche gli accessi di Russo e della Milanese perché la risposta è facile perché l'assunto accusatorio dell'accesso abusivo mal si concilia con l'impiego in maniera limpida e trasparente delle proprie credenziali da parte del dottor Fava e con l'ovvia consapevolezza del dottor Fava che il suo accesso era tracciato cioè il dottor Fava nel momento in cui alle 13.09 fa l'accesso al TIA sa benissimo che quell'accesso è tracciato e lo fa in modo limpido trasparente ecco perché servono Russo e la Milanese alla ricostruzione accusatoria per far credere che ci fosse qualcosa di losco di illecito in realtà come abbiamo evidenziato il dottor Fava è estraneo agli accessi di Russo e della Milanese e la verità è molto più semplice traspare da un'analisi priva di pregiudizio di tutto il dato dibattimentale acquisito il dottor Fava la luce di quanto gli aveva riferito e chiesto il dottor Ielo nei giorni precedenti era convinto di dover adempiere a un dovere del suo ufficio e perciò non aveva alcun motivo di rivolgersi alla signora Milanese o al signor Russo per nascondere quanto invece egli riteneva doveroso fare e che infatti fece personalmente senza l'impiego di alcuna cautela quando ebbe modo di provvedervi a ulteriore dimostrazione della buona fede totale del dottor Fava e del suo convincimento di operare in senso conforme ai propri doveri d'ufficio il fatto che egli sin dal suo primo interrogatorio e nel primo interrogatorio attenzione nessuno glielo contestava questo accesso al TIAB il primo interrogatorio è stato fatto il 4 giugno del 2019 l'ipotesi di reato era di favoreggiamento in relazione all'esposto al CSM del 27 marzo del 2019 favoreggiamento del dottor Palamara ebbene lui serenamente dice di aver fatto questo accesso al TIAB in particolare che cosa risulta risulta questo accesso al TIAB con le credenziali del dottor Fava all'ora di pranzo del 15 maggio 2019 all'ora è 13.09 ora nello stesso minuto e qui è importante anche segnalare che cosa ha fatto il dottor Fava al TIAB e noi siamo in grado di dirlo perché è stato accertato quindi noi siamo in grado di ricostruire al minuto che cosa ha visto il dottor Fava e che cosa ha stampato il dottor Fava alle 13.09 fa l'accesso alle 13.09 nello stesso minuto il dottor Fava ha visionato e stampato la sentenza che recava l'annotazione di passaggio in giudicato ha poi visionato altri due documenti non meglio individuati e ha lasciato aperto il TIAB per oltre un'ora senza avviare ulteriori interrogazioni alle 14.23 ha visionato altri documenti non individuati e ha dato l'ordine di stampa di alcuni di questi ha lasciato nuovamente il TIAB aperto senza farne uso per circa 20 minuti per poi visionare e stampare altri documenti e alle 14.46 ha chiuso il sistema quindi l'attenta lettura dei dati contenuti nella relazione del test eduri prodotta nell'udienza del 13 luglio del 2023 documento 1 dimostra la verità di quanto sostenuto il dottor Fava in relazione all'assoluta serenità con la quale egli ha fatto accesso al TIAB convinto di adempiere un dovere del suo ufficio sia con riguardo attenzione alla decisione di stampare i documenti prima di leggerli perché perché la visione degli orari di visualizzazione stampa dei singoli documenti dimostra che intercorrono significative pause nell'apertura dei vari documenti ma non tra l'apertura del documento e la stampa in altri termini lui alle 13.09 apre la sentenza e la stampa alle 13.09 e poi si legge tutta la sentenza apre stampa legge il successivo documento dopo la sentenza viene visualizzato un'ora e 13 minuti dopo quindi lui apre la sentenza la stampa se la legge e poi apre un documento stampa se lo legge ne apre un altro del tutto fuorviante poi è l'asserzione della pubblica accusa che ha sottolineato la circostanza che il dottor Fava avrebbe stampato alcuni documenti più volte in realtà ha stampato dei documenti che avevano lo stesso ID come tutti sappiamo nel TIAP ci possono essere degli ID con 1,2,3,4 che contengono 300 pagine se io stampo la pagina 100 la pagina 200 e la pagina 300 io risulto aver stampato tre volte da quelli ID ma non è che ho stampato tre volte lo stesso documento il testimone Duri nel corso della sua deposizione ha chiarito che il documento contrassegnato da un unico ID può essere questo lo sappiamo tutti composto da molte pagine e anche da più documenti come per esempio nel caso in cui si tratti di una produzione documentale è quindi probabile anzi logicamente ragionevole che il dottor Fava abbia dato in più momenti ordini di stampa diversi riguardanti documenti o pagine diverse contrassegnati però con lo stesso ID è comunque assolutamente certo che egli ha stampato una sola volta la sentenza che nell'ipotesi accusatoria avrebbe consegnato poi al dottor Palamara in realtà non gliel'ha consegnata al dottor Palamara perché quando hanno fatto la perquisizione al dottor Palamara non gliel'hanno trovata questa sentenza eppure era uno degli obiettivi di questa perquisizione e la prodotta è il dottor Fava quindi ce l'aveva ancora lui tuttavia inoltre né la sentenza né i verbali d'udienza sono giunti nelle mani dei giornalisti come abbiamo visto che secondo l'accusa avrebbero dato attuazione o meglio verrebbe da dire secondo la prima accusa avrebbero dato attuazione a questa campagna mediatica il 29 maggio del 2019 come abbiamo visto nulla dice il fatto quotidiano e la verità dice una cosa interessante perché la verità che cosa dice l'articolo di Amadori scrive che il dottor Ielo avrebbe chiesto la condanna della Bruno attenzione in realtà Amadori riporta non quanto a conoscenza del dottor Fava perché se avesse parlato con il dottor Fava il dottor Fava gli avrebbe detto no ha chiesto la soluzione per il reato più grave la condanna per l'altro reato e non ha fatto appello per nessuno dei due di fronte alla soluzione della Bruno invece no riporta quanto noto al dottor Ielo perché il dottor Ielo come abbiamo visto che aveva parlato con il giornalista Maffettone per chiedergli come aveva concluso aveva ricevuto l'informazione erronea da Maffettone che gli aveva chiesto la condanna cioè l'informazione riportata dalla verità non può avvenire da Fava ma coincide con l'informazione che aveva Ielo e che Ielo aveva ricevuto da Maffettone è di tutta evidenza che se l'articolista Amadori avesse avuto in mano la sentenza a lui veicolata dal dottor Fava o avesse parlato dal dottor Fava avrebbe scritto tutt'altro come abbiamo visto in ogni caso nessuno dei documenti oggetto dell'accesso non solo alla sentenza ma nemmeno i verbali d'udienza della Bruno nulla di questo accesso è stato trovato in possesso del dottor Palamara in occasione della perquisizione eseguita il 30 maggio del 2019 benché fossero proprio quelli i documenti ricercati Palamara non li aveva andiamo adesso ulteriore argomento alla richiesta del dottor del dottor Ielo al dottor Fava di verificare che nel procedimento contro Brunella Bruno lo stesso dottor Ielo avesse fatto il proprio dovere come abbiamo visto il dottor Fava ha sempre dichiarato di aver fatto questo accesso al TIAP nel pieno convincimento che tale accesso fosse doveroso nell'esercizio delle sue funzioni alla luce di quello che gli aveva rappresentato ma anche richiesto il dottor Ielo allora torniamo un attimo indietro al tema perché il dottor Ielo va nella stanza di Fava e gli va a dire guarda che io ho fatto il mio dovere nel processo di Brunella Bruno dovendo escludere anche qui un gesto in consulto del dottor Ielo dobbiamo trovare una spiegazione a questa visita che il dottor Ielo fa al dottor Fava e allora il dottor Fava ha riferito di essere venuto a conoscenza di tutta questa vicenda denominata condotte e del fatto che condotte amministrata tra gli altri dal commissario Giovanni Bruno come il dottor Fava sapeva bene per esserselo trovato di fronte nelle udienze civili in qualche modo collegato ad Amara quindi del fatto che condotte avesse conferito degli incarichi nel 2018 questo è anche importante al fratello del dottor Ielo era venuto a conoscenza dicevo di questa vicenda nel mese di maggio del 2019 il dottor Ielo si era recato nel suo ufficio aveva chiuso le porte perché c'erano gli assistenti della segreteria del dottor Fava quindi il dottor Ielo voleva in qualche modo garantirsi riservatezza in occasione di questo colloquio e lo aveva informato che alcuni giornalisti gli avevano chiesto notizie degli incarichi professionali dati a suo fratello da condotte ripeto il dottor Fava era il magistrato del pubblico ministero addetto all'amministrazione straordinaria di condotte e andava alle udienze alle quali andava pure Giovanni Bruno condotte per Fava significava anche Giovanni Bruno e Giovanni Bruno per lui significava anche Amara perché nel capo di imputazione 26 di quella misura cautelare redatto dal dottor Ielo c'è scritto che Giovanni Bruno era riconducibile ad Amara e comunque era Amara che lo aveva scelto per fare quelle cause e gli aveva spiegato guarda è tutto assolutamente regolare e legittimo Ielo a Fava perché con riguardo agli incarichi avuti dal fratello da Emi questi incarichi quindi glielo ribadisce o comunque glielo dice andavano avanti sin dal 1999 qual è il pensiero o meglio la preoccupazione del dottor Ielo è che Emi era un altro soggetto per quanto una potente multinazionale condizionabile da Amara in relazione all'affidamento degli incarichi professionali lo abbiamo visto e lo ha detto anche Amara in questo dibattimento pagina 71 della sua me la ricordo a memoria della sua deposizione in cui tra le altre cose diceva di aver fatto avere incarichi da Emi proprio a Mangione all'avvocato di Brunella Bruno o meglio al titolare della difesa del quale egli in quel procedimento era sostituto processuale quindi gli dice che gli incarichi dell'Emi a mio fratello sono stati dati dal 1999 quindi non ci può entrare Amara e poi con gli incarichi dati al fratello dalla società condotte che egli Ielo aveva chiesto la condanna di Brunella Bruno creando lui il collegamento tra Brunella Bruno e Giovanni Bruno perché Fava non lo sapeva che Brunella Bruno era la sorella di Giovanni Bruno allora Fava ha riferito di aver interrotto il dottor Ielo dice ma Paolo non è che queste cose me le devi dire a me cioè io non e invece Ielo gli risponde no perché tu le devi sapere tu lo devi sapere perché lo devi sapere perché tu sei il magistrato che sta indagando su Amara in tre procedimenti diversi e comunque è delegato agli affari civili per la vicenda condotta e tu lo devi sapere come magistrato del pubblico ministero che deve fare le sue valutazioni anche al fine di informare di questa situazione le autorità competenti e perché glielo dice per fargli constatare nell'esercizio delle sue funzioni che il dottor Ielo che egli stesso aveva fatto il suo dovere tu guarda il procedimento di condotte vedi come io ho fatto il mio dovere perché io ho chiesto la condanna per tutti su condotte guarda il procedimento condotte questo secondo il dottor Fava gli dice il dottor Ielo il dottor Fava ha affermato che non aveva ancora letto l'articolo del fatto quotidiano del 12 marzo del 2019 cioè lo apprende da Ielo quella mattina di maggio di questi incarichi conferiti da condotte di cui era commissario anche Giovanni Bruno al fratello del dottor Ielo che stava indagando con lui su Amara il dottor Fava ha poi dichiarato che alla luce di quanto gli era stato riferito e anche chiesto di verificare ma avrebbe dovuto farlo attenzione signori del tribunale a prescindere anche da una richiesta perché se uno se io sono il pubblico ministero delegato agli affari civili di condotte so che Giovanni Bruno è in qualche modo collegato ad Amara e il procuratore aggiunto mi viene a dire guarda che i giornalisti mi hanno chiesto di incarichi conferiti da condotte a mio fratello e Amara è ancora indagato perché Amara era ancora nel pieno delle indagini nel maggio del 2019 allora io me lo pongo il problema me lo pongo da solo anche se lui non me lo chiede e gli aveva chiesto e gli aveva rappresentato lo stesso Ielo che c'era questo collegamento con l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero nel procedimento di Brunella Bruno e quindi dicevo il dottor Fava ha sempre dichiarato che alla luce di quanto gli era stato riferito e anche chiesto di verificare ha ritenuto doveroso per stabilire se effettuare una segnalazione alle autorità competenti anche in relazione a quella vicenda andare a guardare la cosiddetta vicenda condotta che poi non era la vicenda condotta perché era un fascicolo relativo a Brunella Bruno sorella di Giovanni Bruno ecco perché l'accesso al TIAP nel pieno esercizio delle sue funzioni di pubblico ministero e nell'adempimento di quelle verifiche minimali dove rosse come vedremo ai fini di stabilire se ci sono gli elementi per effettuare una segnalazione alle autorità competenti anche in relazione a quella vicenda che egli aveva preso nel suo ufficio perché non è che lo ha convocato a casa o per strada è andato nel suo ufficio il dottor Ielo a dirlo e gli ha detto guarda controlla verifica io nelle 130 pagine e lo ha detto il dottor Ielo che gli ha detto perché poi tutto questo è stato confermato dal dottor Ielo e gli ha detto e il dottor Ielo ha riferito a codesso illustrissimo tribunale di aver detto guarda controlla verifica di questo guarda controlla verifica io nelle 130 pagine scritte dall'ottimo amico avvocato Filippo Di Nacci non ne ho trovato traccia le ho ricevute ieri sera queste 130 pagine noi ci riserviamo di eventualmente approfondire però ho fatto una scorsa veloce ho cercato per esempio con le parole testuali quante volte hanno citato la sentenza del 2003 di cui parleremo quella sull'articolo 11 l'hanno citata quattro volte è l'unica sentenza che cita noi vedremo abbiamo il testo integrale di quella sentenza che cosa dice in realtà quella sentenza però questo guarda controlla verifica il dottor Ielo ha ammesso di averlo detto dice il dottor Ielo certo gli ho detto guarda controlla verifica ma non gli ho detto di andare al TIAP ma infatti il dottor Fava non ha mai detto che il dottor Ielo gli ha detto di andare al TIAP però gli ha detto una cosa diversa gli ha detto gli strumenti noi ce li abbiamo e lo ha detto anche nel dibattimento in sintesi nel corso del suo esame adesso cercherò di sintetizzare abbiamo riportato le pagine sono varie pagine della memoria con tutto quello che ha detto il dottor Ielo ovviamente io le risparmio al tribunale comunque le troverete nella memoria sono le pagine del 90 al 98 della trascrizione della deposizione del dottor Ielo del 16 febbraio 2022 comunque cerchiamo di sintetizzare quello che ha detto il dottor Ielo in queste 10 pagine di trascrizione ha detto in buona sostanza che all'uscita dell'articolo del fatto quotidiano del 12 marzo 2019 aveva egli stesso messo in relazione l'incarico conferito perché anche il dottor Ielo sapeva chi era Giovanni Bruno attenzione l'ha scritto lui il capo 26 della misura cautelare quindi anche il dottor Ielo immediatamente si rende conto del possibile problema quando legge sul giornale il 12 marzo 2019 che condotte ergo anche Giovanni Bruno stavano dando con Amara indagato da quell'ufficio stavano dando incarichi al fratello dello stesso dottor Ielo e quindi lui collega questo procedimento e sapeva anche il dottor Ielo che Giovanni Bruno lui lo sapeva che era il fratello di Brunella Bruno e quindi che cosa fa chiama chiama il dottor Ielo ce l'ha spiegato nel dibattimento maffettone dell'ansa e gli dice scusa ma io come ho concluso nei confronti di Brunella Bruno cioè lo sta creando il dottor Ielo il collegamento tra gli incarichi dati da condotte all'avvocato Domenico Ielo e il procedimento Brunella Bruno perché chiama maffettone se non c'era nessun collegamento ma per quale motivo andare a chiamare maffettone e maffettone gli dà la versione pubblicata da Amatori tu hai chiesto la condanna e Amatori scriverà tu hai chiesto la condanna e quindi Amatori non può aver parlato con Fava ha parlato con qualcuno che gli ha detto che Ielo ha chiesto la condanna che ha detto sempre nel dibattimento il dottor Ielo che ricordava di aver chiesto al dottor Fava di verificare di controllare lo ha detto Ielo e l'avvocato della parte civile Ielo almeno io non l'ho trovato in questa lettura serale della memoria un riferimento a questi passaggi di verificare che cosa che aveva fatto il suo dovere ma dove nel procedimento nei confronti di Brunella Bruno che con la vicenda condotta in sé non c'entra assolutamente niente cioè non è che nel procedimento Brunella Bruno c'è una contestazione relativa a condotto il collegamento lo fa il dottor Ielo perché Brunella Bruno è la sorella di chi stava dando incarichi al fratello e poi afferma il dottor Ielo innanzi a codesso illustrissimo tribunale come doveva fare il dottor Fava io non gli ho detto di andare al TIP ma gli strumenti di verifica noi ce li abbiamo e quali strumenti di verifica noi ce abbiamo dottor Ielo come pubblici ministeri le parole impiegate richiamano indubbiamente quanto possibile al pubblico ministero per l'esercizio della funzione svolta e come vedremo il dottor Fava aveva la piena facoltà di andare al TIP per controllare il procedimento nei confronti di Brunella Bruno che lo stesso dottor Ielo aveva collegato agli incarichi conferiti al fratello da condotte e il dottor Fava prima di fare l'accesso di tutto questo non sapeva assolutamente niente poi vedremo il pubblico ministero vi ha intrattenuto e ci ha intrattenuto nella lettura della memoria per pagina e pagina su quello che risultava dagli atti oggetto dell'accesso al TIP ma questi atti prima di fare l'accesso il dottor Fava non li poteva conoscere che ne sapeva il dottor Fava che cosa veniva fuori da quell'accesso gli aveva detto solo controlla che nel procedimento nei confronti di Brunella Bruno ho fatto il mio dovere ma se io non lo vado a vedere il procedimento nei confronti di Brunella Bruno c'era un mago egiziano che riusciva a sapere quello che c'era scritto in un plico senza aprirlo ma purtroppo il dottor Fava non era dotato di queste capacità quindi comunque l'allusione agli strumenti di verifica noi ce li abbiamo non può che essere inteso che come un riferimento agli strumenti propri e tipici del pubblico ministero dice anche il dottor Ielo che questa sollecitazione perché anche il dato temporale è un dato sul quale l'accusa si è soffermata perché dice come l'articolo era di marzo perché Fava si attiva il 15 di maggio giorno nel quale il dottor Ielo viene sottoposto intervento chirurgico e intanto il dottor Fava dice è venuto qualche giorno prima di essere operato quindi il dottor Fava colloca temporalmente questo episodio a maggio del 2019 qualche giorno prima che il dottor Ielo fosse operato ma lo stesso dottor Ielo dice nella deposizione resa a Codes illustrissimo tribunale che era andato da Fava qualche mese dopo ora qualche mese anche considerandone ne sono due arriviamo al 12 maggio del 2019 perché l'articolo è del 12 marzo quindi risulta confermato che questo colloquio si è svolto nel mese di maggio del 2019 qualche giorno prima che il dottor Ielo fosse operato perché poi il dottor Ielo si è recato dal dottor Fava lo dice il dottor Ielo sempre in tutte queste pagine perché era partito qualche caos ecco perché ci va non perché improvvisamente va lì a dire guarda se nel processo di Brunella Bruno ho fatto il mio dovere perché era partito qualche caos con la speranza di ragionare di parlare guarda che ho fatto solo il mio dovere l'ho sempre fatto qual era il caos al quale allude il dottor Ielo il caos era la consapevolezza in capo al dottor Ielo perché aveva letto le osservazioni di Fava al CSM del 25 marzo del 2019 che già era stato segnalato al CSM era stata già segnalata l'esistenza di incarichi professionali dati da clienti di Amara al fratello del dottor Pignatore solo questa può essere quindi questo è il caos che stava partendo il dottor Ielo sapeva che il dottor conoscendo il dottor Fava che il dottor Fava non avrebbe guardato in faccia a nessuno in una delle intercettazioni inutilizzabili Palamara dice Fava è il tipo che arresta la madre se ritiene che ci sia qualcosa che non va quindi conoscevano è venuto fuori dal dibattimento che Fava era un magistrato integerrimo quindi il dottor Ielo era consapevole che il dottor Fava come aveva segnalato gli incarichi del fratello del dottor Pignatore avrebbe segnalato gli incarichi di suo fratello e non sapeva che il dottor Fava non aveva ancora letto l'articolo del 12 marzo del fatto quotidiano quindi lui era convinto che il dottor Fava già stesse procedendo già lo sapesse e gli è andata a dire guarda che per Brunella Bruno ho fatto il mio dovere controllo verifica abbiamo la certezza che il dottor Ielo abbia letto le osservazioni di Fava al CSM del 25 marzo 2019 segretate dal dottor Pignatore e non trasmesse poi al CSM e lo sappiamo negli atti cartellina nella cartellina atti inviati alla procura generale dottor Salvi prodotta dal PM il 13-12-2023 foglio 681 e seguenti ci sono le osservazioni del dottor Fava a pagina 19 e le note integrative a queste redatte dal dottor Ielo in data 28 marzo 2019 quindi quando il dottor Ielo dice è partito qualche caos è perché lo dice perché ha letto quello che ha scritto Fava al CSM poi segretato da Pignatore il 25 marzo ed è assolutamente certo che Fava avrebbe segnalato anche gli incarichi conferiti a suo fratello da soggetti in qualche modo collegati ad Amaro in altri termini il dottor Ielo è andato da Fava e questo lo ha detto lo stesso dottor Ielo per tutelarsi per evitare che il dottor Fava segnalasse cose imprecise che potessero in qualche modo danneggiarlo ecco perché gli va a dire guarda che ho fatto il mio dovere controlla verifica ritenendo quindi di poterlo convincere chiudendo le porte della regolarità dei propri comportamenti e questo che gli chiede il dottor Ielo a Fava glielo prospetta anche come necessario per un corretto adempimento delle sue funzioni cioè tu devi fare la segnalazione lo so la devi fare però prima di farla controlla anche che io ho fatto il mio dovere scrivilo che ho fatto il mio dovere questo è il senso di quel colloquio non può essere il senso estemporaneo propagandato mi verrebbe da dire nella memoria che improvvisamente il dottor Ielo impazzito vada a Fava e gli dice controlla che ho fatto il mio dovere nel processo di Brunella Bruno non avrebbe senso invece tutto ciò ha senso ed è una spiegazione che ci dà lo stesso dottor Ielo ebbene la cosa curiosa è che nonostante le chiare parole chiarissime parole del dottor Ielo la pubblica accusa ha continuato a non credere a quanto dichiarato dal dottor Fava su questo incontro pur essendo questo confermato dal dottor Ielo addirittura il pubblico ministero dice anche a voler concedere ammesso e tutto concesso che sia vero ma che sia vero quello che dice il dottor Ielo quello che dice il dottor Ielo conferma quello che dice il dottor Fava questo incontro c'è stato e ha avuto questo contenuto e aveva queste finalità la missione del dottor Ielo conferma e prova la verità delle dichiarazioni del dottor Fava anche perché in questo racconto che il dottor Fava fa da subito già il 4 giugno del 2019 egli si dimostra a conoscenza di particolari che solo il dottor Ielo poteva avergli detto il dottor Fava non avrebbe potuto sapere che il dottor Ielo erroneamente riteneva di aver chiesto la condanna nei confronti di Brunella Bruno perché questo gli dice io ho chiesto la condanna non avrebbe potuto sapere che Brunella Bruno imputata nel procedimento seguito dal dottor Ielo era la sorella di uno dei commissari di condotte Giovanni Bruno il cognome Bruno credo che sia uno dei cognomi più diffusi in Italia come faceva Fava a sapere che Brunella Bruno era la sorella di Giovanni Bruno di condotte se non glielo diceva il dottor Ielo non avrebbe potuto sapere che il fratello del dottor Ielo riceveva incarichi professionali dall'Eni sin dal 1999 ora su questa circostanza dal dibattimento è emerso che in realtà dal 1999 fino alla fine del 2017 gli incarichi di Eni non erano conferiti all'avvocato Domenico Ielo in persona erano conferiti allo studio Bonelli Erede Pappalardo nel quale l'avvocato Ielo collaborava al pari di diverse altre centinaia di avvocati perché lo studio Bonelli Erede come sappiamo ha centinaia di avvocati dall'ottobre 2017 l'avvocato Domenico Ielo si mette in proprio e l'Eni decide di affidare degli incarichi allo studio legale credo che si chiamasse Ielo Mangialardi che era lo studio fondato dall'avvocato Ielo attenzione ottobre 2017 è il periodo di massimo potere di Piero Amara nei confronti dell'ufficio legale dell'Eni era il periodo nel quale Piero Amara poteva determinare il conferimento di incarichi dall'Eni cioè questo particolare non è un particolare tranquillizzante agli occhi del dottor Fa perché dal 99 al 2017 gli incarichi vanno allo studio legale Bonelli Erede che è uno dei più grossi studi legali italiani dall'ottobre del 2017 cioè proprio nel periodo in cui Amara in qualche modo tra virgolette detta legge come dimostreranno e come vedremo i altri procedimenti penali nell'ambito dell'ufficio legale dell'Eni i suoi collegamenti con Mantovani sono dimostrati dalle richieste di rinvio a giudizio per l'associazione per delinquere fatte nei confronti di Amara e di Mantovani quindi proprio nel momento in cui detta legge nell'ufficio legale dell'Eni Amara vengono conferiti incarichi al fratello del procuratore aggiunto questo aspetto non è ripeto tranquillizzante agli occhi del dottor Fa quindi non avrebbe potuto in ogni caso Fava sapere se non glielo avesse detto Ielo che il fratello riceveva incarichi professionali dall'Eni sin dal 1999 tutti questi elementi quindi rendono assolutamente verosimile il racconto del dottor Fava che deve essere ritenuto oggi a luce del dibattimento di quello detto di quanto detto dal dottor Rielo assolutamente credibile e quindi del tutto coerente e logico che il dottor Rielo abbia ritenuto di rappresentare quei fatti e avanzare anche quella richiesta proprio al dottor Fava per evitare di essere danneggiato da quella che egli poteva ritenere una superficiale e incompleta valutazione della situazione da parte del collega in sede di informativa alle autorità competenti che egli era certo Fava avrebbe dato allora cerchiamo di approfondire poi il tema quando vuole Presidente possiamo adesso visto che abbiamo chiuso anche perché la voce tende a scemare 10 minuti e un quarto d'ora grazie